Soprattutto importante e decisivo perché era veramente importante vincere e conquistare questi tre punti, quindi siamo contenti della prestazione. È una bellissima cosa, oggi ci hanno superato di un gol, però comunque siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, il pazzo ha ritrovato il gol anche lui, quindi stiamo bene, siamo in crescita e dobbiamo continuare così. Sì, assolutamente, Nyang sta facendo veramente bene, sta facendo vedere grandi cose, quindi complimenti a lui ma anche a tutta la squadra perché siamo riusciti a soffrire anche negli ultimi minuti e a non prendere gol, quindi siamo contenti. È una bella sensazione sicuramente, perché comunque adesso siamo nelle prime cinque, quindi dobbiamo crederci, continuare così perché possiamo veramente arrivare in alto.